Intanto penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare a discussione sulla reale portata del tema. Qui si sta discutendo intorno a 0,4 in più o in meno di deficit. Per certi versi non vorrei dirlo, la discussione non dico che sia surreale, perché c'è un dovere della Commissione di far notare che ci si discosta di alcuni accordi che erano stati presi in precedenza. Però io penso che il tono della discussione debba tenere presente questo. Si conferma un rallentamento dell'economia europea, non solo italiana. Le ultime previsioni della Commissione confermano e altri indicatori confermano che il rallentamento c'è e soprattutto c'è nei paesi più grandi dell'Europa, Francia e Germania. Se si ferma la Germania è chiaro che l'impatto anche sull'Italia e la sua intera Europa sarà notevole. Speriamo ovviamente che la Germania non si fermi. Ma anche se guardiamo alle previsioni della Commissione europea, sembra che purtroppo verso il basso l'obiettivo di restringere il differenziale di crescita tra l'Italia e l'Europa si stia già realizzando, ma non come volevamo noi con un avvicinamento dell'Italia verso l'alto, ma perché l'Italia in fondo sembra dalle previsioni rallentare meno di alcuni altri paesi. Ora è chiaro che questo pone un problema nuovo, penso anche alle considerazioni che potrà fare la Commissione europea e quindi potrà, immagino, vedere, guardare alla nostra manovra in modo diverso. Ma non so se lo farà, adesso vediamo. L'importante è che ci sia una discussione molto calma di fronte a dei dati per cui c'è un rallentamento dell'economia. L'Italia ha deciso di fare una manovra che direi molto moderatamente espansiva in una situazione di rallentamento generale dell'economia. Il deficit adottato può piacere o no, ma negli ultimi dieci anni, credo che solo l'anno in corso, l'Italia ha avuto un deficit minore del 2,4%, la Francia ha sempre avuto un deficit molto più alto dell'Italia e continua anche ad averlo nelle previsioni, abbiamo certamente un debito più alto e questo è il problema. Noi abbiamo l'obiettivo di ridurre questo debito, ma se guardate ai dati un po' più prospettici, diciamo nel passato, la dinamica del nostro debito in salita è molto più contenuta che in altri paesi. Noi abbiamo un'eredità che viene dall'altro secolo, ma anche se vediamo dalla crisi del 2008 in poi è cresciuto meno il nostro debito, per esempio del debito francese e quindi anche questo deve essere considerato. Questo non è una specie di scusa perché anche noi dobbiamo ridurre il debito, però stiamo parlando di questo. poiché non si è mai parlato che deviazioni di altri paesi ben più forti del nostro paese o questa dinamica del debito abbia messo in discussione la solidità dell'Europa, non vedo perché si debba discutere oggi. Poi è chiaro che più il debito scende meglio è e più si riesce a raggiungere gli obiettivi che uno si pone con un deficit più basso, meglio è perché non è che sia un merito fare un deficit alto, è un merito adottare delle misure di politica economica che penso possano avere un effetto positivo. Ma noi stiamo discutendo di questo, stiamo discutendo di aver aumentato rispetto all'eredità anche lo scorso anno da 2 al 2,4% il deficit. Poi il futuro si discuterà e man mano si prenderanno delle decisioni. Nella risposta nel DPP che abbiamo risottomesso alla Commissione abbiamo cambiato qualcosa, la discussione va avanti e si vedrà. Ovviamente il programma del Governo non cambia, ma c'è tutta l'intenzione di portare avanti una discussione che nelle condizioni generali, nel contesto economico cambiato, sono condizioni che spero possano favorire un dialogo ancora più costruttivo di quello che c'è stato finora, vedremo, ma non vedo nulla di drammatico.